Ben trovati al TG6 L'Aquila, oggi apriamo parlando di Gran Sasso, primo giorno di riattivazione della funivia del Gran Sasso che torna in funzione, anche gli impianti di risalita sono pronti per tornare a funzionare, ancora poca la neve, anche se mezzi e battipista stanno lavorando in questi giorni per aprire almeno due tratti del comprensorio nei prossimi giorni, ancora chiuso a un autodulente l'albergo di Campo Imperatore per vedere come stanno effettivamente le cose, una nostra troupe è andata sul posto, ci racconta la mattinata Giorgio Alessandri. Ore 8.30, 2 dicembre 2015 parte la prima corsa della funivia del Gran Sasso d'Italia, inizia quindi una stagione invernale almeno dal punto di vista degli impianti che gli albergatori e sciatori possa essere migliore di quelle degli anni passati, gli impianti sono stati revisionati, è tutto pronto, adesso fra un po' ci regheremo in quota per vedere qual è la situazione, l'albergo sappiamo che è chiuso nonostante sia stato affidato ad un nuovo gestore, sciatori quindi non ce ne sono, ci sono soltanto alcuni appassionati di alpinismo che stanno prendendo con noi la prima funivia. Vento assente, cielo terzo e impianti pronti, una giornata perfetta o quasi sul Gran Sasso dove è tornata in funzione la funivia, prologo di una stagione sciistica che inizia leggermente in ritardo rispetto agli altri comprensori. E ci troviamo all'imbarco della funivia del Gran Sasso, fra pochi minuti partirà la prima corsa di questa giornata, gli impianti sono ancora chiusi ma la funivia finalmente è in funzione, adesso fra poco entreremo e ci regheremo sull'albergo di Campo Imperatore per vedere com'è la situazione. Poca la neve ma impianti funzionanti e mezzi in funzione sulle piste per cercare di aprire almeno un paio di tratti del comprensorio di Campo Imperatore nei prossimi giorni. Tutto perfetto o quasi, oltre allo storico stello chiuso ormai da anni, l'albergo di Campo Imperatore appena affidato ad un nuovo gestore è ancora chiuso. Finalmente siamo saliti in quota, siamo nel piazzale di Campo Imperatore, come avete visto i battipista sono a lavoro, ci sono le gru per preparare le piste, si parla di un'apertura intorno alla prossima fine settimana ma c'è ancora da attendere, mentre in realtà l'albergo di Campo Imperatore è chiuso, come avete visto alle mie spalle la struttura nonostante sia stato trovato il nuovo gestore è ancora chiusa agli ospiti, l'ostello che abbiamo visto prima è invece chiuso da anni, insomma una situazione a due facce con gli impianti che sono funzionanti e la funevia che è tornata al lavoro e l'albergo invece che è ancora chiuso. Quella che vedete alle mie spalle è la pista chiamata comunemente del Canalino e alla suo fianco c'è quella invece denominata della strada. L'innevamento è ancora decisamente scarso anche se i mezzi stanno lavorando per abbattere le piste e cercare di prepararne almeno un paio in vista di un'apertura. E restando al Gran Sasso siamo andati ad ascoltare anche gli albergatori. Ci sono ancora poche prenotazioni, in realtà sono tante le telefonate che arrivano per chiedere informazioni sulla stagione sciistica ma nessuna conferma. Si spera nelle perturbazioni annunciate che possano portare la neve per il Ponte dell'Immacolata e soprattutto in una programmazione da parte della politica per decidere quale deve essere il futuro del bacino sciistico e del servizio. Tante richieste di informazioni ma al momento nessuna prenotazione. È l'attuale situazione degli alberghi della Villetta a Campo Imperatore. Turisti e sciatori attendono la neve e gli operatori turistici attendono invece l'inizio di una stagione che sperano possa essere migliore di quella passata. Ma di richieste informative ce ne sono tante però di conferme effettive al momento ancora niente perché chiaramente la gente si muoverà non appena saprà dell'apertura effettiva degli impianti e della prossima nevicata perché la neve ne ha fatta però non è sufficiente per poter tenere aperti gli impianti. Una montagna il cui sviluppo negli anni non è mai decollato. Ultima stagione questa prima della privatizzazione. Anni di sacrifici e lavoro amaro per gli albergatori che sperano sempre ogni anno in realtà che qualcosa cambi. Dobbiamo stringere i denti per un altro anno diciamo perché questa sembra che sia l'ultima stagione invernale con questi vecchi impianti e poi finalmente il prossimo anno si partirà con questa tanto agognata privatizzazione. Speriamo che il 2016 ci porti veramente qualcosa di positivo perché almeno il confronto che si ha con i tecnici, insomma loro confermano che la stazione così come è sistemata tutt'oggi non può certo superare altre stagioni. Questa del 2016 sicuramente la riusciremo a fare però penso forse che in queste condizioni sia proprio l'ultima. E rimaniamo ancora in alta quota. Quello del Gran Sasso è il primo distretto turistico montano d'Italia. L'ufficialità è arrivata con la firma del decreto da parte del ministro con Delegal Turismo Dario Franceschini. Previsti dei fondi per il ripristino della sentieristica, sentieri d'alta quota e marketing. Giorgio Alessandri. Il ministro dei beni ambientali, culturali e del turismo Dario Franceschini ha firmato il decreto che istituisce il distretto e che di fatto apre una stagione nuova per il turismo montano abruzzese dell'Appennino. Quello del Gran Sasso è il primo distretto turistico montano d'Italia e va ad inserirsi in un ambito, quello dei distretti, che era stato pensato soprattutto per le aree costiere italiane. La felice intuizione dell'Abruzzo di pensare a una strategia comune sul turismo anche per un'area di montagna come il Gran Sasso, esordisce il vice presidente della giunta regionale Giovanni Lolli, ha portato a un grande risultato, aprendo una strada nuova nella promozione del turismo montano. Un'operazione partita dal basso e realizzata nel giro di un anno, in ragione di un confronto sul territorio che ha trovato interlocutori credibili e convinti assertori del progetto. Ora, aggiunge Lolli, il distretto del Gran Sasso è destinato a diventare modello di riferimento per le altre realtà turistiche montane italiane dell'Appennino, ma soprattutto struttura portante del nuovo accordo su Ape, che con le altre regioni abbiamo pensato soprattutto in chiave di promozione turistica. Se la firma del ministro Franceschini ha sancito l'ufficialità dell'operazione, di fatto il distretto ha già avviato progetti di rilancio turistico legati ai servizi. La regione, nell'ambito dei fondi FAS, ha finanziato progetti per 2 milioni e mezzo di euro nell'area del Gran Sasso. Nello specifico si tratta della riqualificazione della sentieristica di bassa quota, per la quale sono stati destinati 640 mila euro, dei sentieri d'alta quota delle vie ferrate per un importo di un milione e mezzo di euro e del progetto Gran Sasso Experience, di promozione e marketing del territorio, per 360 mila euro. La Polizia di Stato, ora andiamo in cronaca, ha denunciato per furto un cittadino italiano di 34 anni a ele iniziali per aver sottratto della merce presso il supermercato Conad del Centro Commerciale L'Aquilone. L'uomo, al momento di oltrepassare le casse dopo aver pagato della merce acquistata, è stato fermato dal personale addetto alla vigilanza, che aveva notato tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza che lo stesso aveva precedentemente occultato due cartucce per stampanti all'interno della tasca del suo giubbino. Vistosi scoperto, il soggetto si è dato alla fuga. La scena è stata notata da un agente della squadra volante, libero dal servizio, che si metteva prontamente all'inseguimento del fuggitivo, riuscendo a bloccarlo poi a circa 200 metri dal supermercato. Con l'ausilio di una pattuglia, il giovane è stato fermato e accompagnato presso la questura. L'uomo, con a carico altri precedenti penali, è stato denunciato alla procura della Repubblica dell'Aquila. Ora torniamo a parlare di Abruzzo Engineering. Il PD parla di 5 Stelle disinformate. È ancora polemica dopo l'annuncio dell'esposto alla Corte dei Conti da parte del Movimento 5 Stelle sull'attività di Abruzzo Engineering per verificare costi e affidamento dei lavori per il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci del Partito Democratico. I grillini sono mal informati, mentre l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila Pietro Di Stefano bolla il consigliere pentastellato Ranieri come saccente. Sentiamo. Il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci risponde a Ranieri sull'esposto presentato ieri dal Movimento 5 Stelle alla Corte dei Conti sulla vicenda di Abruzzo Engineering. Secondo il Movimento, infatti, la società in house starebbe lavorando per il Comune dell'Aquila in violazione delle norme che regolano l'affidamento in house, mentre restano ancora esclusi l'idone del cosiddetto concorzone. Dalle informazioni in mio possesso, spiega Pietrucci, il personale di Abruzzo Engineering impiegato nella ricostruzione con la convenzione richiamata del 15 settembre è pari a 121 unità e non 111. Mi pare che il costo non sia quello dichiarato nell'esposto dal consigliere Ranieri in cui è indicata una cifra comprensiva di IVA che viene trattenuta alla fonte direttamente dal committente, ma di quasi 1000 euro di meno al mese per persona, comprensivo peraltro di postazione ufficio, computer, software, stampanti, toner, cancelleria, vetture per sopralluoghi e interventi. Ritengo questo, dice Pietrucci, un costo assolutamente in linea, quando non inferiore a parità di livello degli altri soggetti impiegati nelle attività di ricostruzione. L'affidamento di lavori, spiega Pietrucci, avviene da parte dell'USDRA, soggetto costituito proprio da Regione Abruzzo insieme ad altri enti e ministeri. Non c'è nessuna competizione con l'idone del concorzone. Penso infine che il collega Ranieri, sia male informato, conclude anche rispetto ai presunti fondi europei da utilizzare per sostenere Abruzzo Engineering, cosa assolutamente falsa. Come firmatario del progetto di legge discussi e approvato dal Consiglio, mi sono assunto la responsabilità di salvaguardare un'azienda della quale l'attuale governo regionale ha ereditato un contenzioso di circa 30 milioni di euro, imputabili e creati da altre gestioni e governi regionali, e di chiuderli a 4,5 milioni di euro. Ultimo, ma non meno importante, con la mia legge, dice ancora Pietrucci, abbiamo dotato Abruzzo Engineering di un piano industriale che nel rapporto uscite maggiori introiti è quasi a costo zero per la Regione Abruzzo. Sullo stesso argomento interviene anche Pietro Di Stefano, assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila. Ranieri, consigliere del Movimento 5 Stelle Regione, dimostra approssimazione mista a saccenza nelle sue dichiarazioni, dice, minaccia esposti alla Corte dei Conti senza sapere che l'azienda presta la propria opera nella ricostruzione post-sisma, coprendo di fatto e solo in parte, fa notare, la carenza di personale che gli enti pubblici denunciano per fronteggiare dopo il 6 aprile le centinaia di migliaia di pratiche dei cittadini abruzzesi che aspettano di veder tornare agibile la propria casa. Se non ci fossero, e conclude, i lavoratori di Abruzzo Engineering, di fatto si fermerebbero i lavori, non si pagherebbero le imprese, non si potrebbero controllare i cantieri con il monitoraggio delle maestranze, non andrebbero neppure avanti le pratiche di definizione dei contributi. Traffico impazzito questa mattina sulla stada Mausonia, una delle atere di collegamento più importanti dell'Aquila per i lavori che termineranno domani. Si sta infatti lavorando sulle condutture del gas. Problemi al traffico in realtà causati dai contemporanei lavori sulla Mausonia e anche in via 20 Settembre per i sottoservizi dove c'è la disposizione temporanea di un'unica corsia. Nel frattempo per lasciare spazio a questo cantiere dei sottoservizi il Comune ha disposto anche il restringimento temporaneo della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata per entrambi i lati tra l'incrocio con via Campoli Fossa e l'incrocio con Corso Federico II. Inoltre sono istituiti il senso unico in salita su via 20 Settembre tra via delle Buone Novelle e via Le Crispi, il divieto di transito ai veicoli comportata superiore alle 3,5 tonnellate in tutte le strade coinvolte, la chiusura temporanea di alcuni tratti di via Sant'Agostino e via San Michele, senso unico alternato in via Cesare Battisti e il doppio senso infine in via San Michele dove ci sarà anche il divieto di sosta con rimozione. Ora andiamo alla ASL, buste paga più pesanti per i dipendenti. Parliamo di aumenti che vanno tra i 40 e i 70 euro a cui vanno aggiunti i arretrati del 2015, questo per tutti i dipendenti dell'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila. A darlo in annuncio sono i sindacati Cisle Will al termine di una lunga trattativa con i vertici dell'azienda sanitaria. Giorgio Alessandri. Buste paga più pesanti per circa 2.000 dipendenti dell'ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila. I lavoratori a partire da questo mese riceveranno un aumento che varia dai 40 ai 70 euro mensili, a cui si aggiungono gli arretrati da gennaio 2015 ad oggi, che verranno corrisposti con la retribuzione di dicembre. A darne notizia sono il coordinatore provinciale FPC-Sanità Gianfranco Giorgi ed il segretario Will FPL Antonio Ginnetti. Gli aumenti in busta paga, affermano i sindacalisti, sono il frutto di una lunga trattativa e di un impegno forte delle organizzazioni sindacali e delle RSU per sbloccare le somme accantonate nel Fondo Speciale per il Personale, soldi che aspettavano ai lavoratori ma che erano fermi da anni. Tali aumenti, oltre ad avere validità retroattiva dal 1 gennaio 2015, saranno parte integrante della retribuzione fino alla data del pensionamento. La fascia economica, spiegano Giorgi e Ginnetti, è stata attribuita a tutte le varie figure professionali del comparto, ovvero infermieri, ausiliari, operatori socio-sanitari, tecnici amministrativi ed altre. In totale la ASL impegnerà una somma pari a 2 milioni di euro. Questo provvedimento, suffragato dalla ASL con una delibera, va a tamponare una situazione di graduale progressione economica, bloccata anche dall'entrata in vigore del decreto Brunetta e dal mancato rinnovo del contratto nazionale del pubblico impiego e del comparto sanitario, che non viene rinnovato da oltre sei anni. Ogni dipendente perceverà mediamente, con la busta paga di dicembre, dai 300 ai circa 700 euro dei retrati, a cui si somma l'aumento mensile. Una gratificazione economica, aggiungono Giorgio e Ginnetti, chiesta più riprese, in virtù dell'impegno e dei sacrifici affrontati quotidianamente dal personale dell'ASL aquilana, con turni di lavoro pesanti e copertura dei festivi che costringono, in alcuni casi, a rinunciare anche alle ferie. Un quadro difficile che deriva dalle restrizioni imposte sulle assunzioni e dalla carenza cronica di operatori sanitari. Si tratta di un risultato importante che chiude una partita economica che si trascina da tempo, concludono i sindacalisti. Ringraziamo la direzione dell'ASL per la sensibilità dimostrata nei confronti del personale impegnato in un settore delicato e fondamentale come quello della sanità. La pagina culturale che chiude il TG va in scena per la stagione teatrale aquilana organizzata dal Teatro Stabile d'Abruzzo, giovedì 3 dicembre alle 21 e venerdì 4 dicembre alle 17.30, appresso il ridotto del Teatro Comunale Il Mio Nome è Nessuno. L'Ulisse di Valerio Massimo Manfredi, adattamento e drammaturgia e testo di Francesco Piccolini, regia di Alessio Pizzac, scene di Antonio Panzuto, costumi di Cristina D'Arold, musiche originali di Dario Arcidiacono, Davide Sommaria, disegno luci di Nevio Cavina con Sebastiano Lomonaco, Maria Rosara Carli, Turi Mariocca, Carlo Calderone, l'orchestra Sax in Progress del Conservatorio Operosi di Campobasso. Ad arricchire l'evento anche un incontro che si terrà venerdì 4 dicembre alle 12 presso l'Università degli Stoli dell'Aquila nel Dipartimento di Scienze Umane. Nei parteciperanno la professoressa Doriana Legge, il professor Mircolino dell'Università dell'Aquila, il professor Fabrizio Derio dell'Università di Teramo, il drammaturgo e scrittore Francesco Piccolini e il protagonista dell'appistiatrale Sebastiano Lomonaco. Bene, con questa notizia termina il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortesia e attenzione. Rimanete su TV6 per la consueta programmazione della nostra emittente. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.